buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno bentornati sul canale dei bancomatti sono amici e vi do il benvenuto con questa grandissima anticipazione si parla di nutella quello che ci piace a noi sembra che abbia tutta l'aria di essere un instant win partirà precisamente anzi non precisamente perché ancora non lo sappiamo ufficiosamente si vocifera che partirà il giorno 28 marzo tenete d'occhio i volantini perché nel web abbiamo trovato una foto di un volantino del della catena punto risparmio adesso controllo bene ok precisamente della catena punto risparmio ha pubblicizzato questo concorso nutella quindi a tutti quelli che hanno i parenti giù chiamate perché per ora è uscito sul loro volantino essendo un concorso nutella come più delle volte si spera che sia su tutto il territorio nazionale quindi senza problemi però il regolamento ancora non c'è se riusciamo siccome il volantino di questo punto vendita parte oggi giorno 28 marzo speriamo che lo carichino in rete abbiamo cercato qualche altra foto su internet ma non abbiamo trovato niente a parte su ebay la gente che vendeva i vecchi però lasciando stare questo ha tutta l'aria di essere un bellissimo instant win con altre con alte probabilità di vincita perché si parla di 100 tostapane al giorno cioè una media calcolando così ignoranza una media di 4 all'ora perché 24 ore per 4 si ci siamo quasi manca ancora qualcosina manca ancora qualcosina perché 25 per 4 fa 100 però vabbè questa è una piccola anticipazione se abbiamo poi informazioni certe o esce direttamente il concorso saremo i primi a provare a giocare e costruirvi su un bel tutorial intanto volevo anticiparvi questa cosa se avete qualche altra notizia informazione commentate pure sotto intanto se lasciate anche un bel like non fa mai male a parte questo io vi invito a entrare nella nostra community telegram bancomatti vi aspettiamo si entra su invito che è sul canale telegram per accedere al gruppo lasciate un like condividete se trovate video interessante e più noi vi aspettiamo siamo in tantissimi un saluto da amici un saluto da foodscare un cashback bancomatti e viva la nutella ciao 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 ciao